Bentornato a Italo Vezzoli di Incrasanteria, dodicesima edizione di Repanettone. Quali sono stati o sono ancora i suoi maestri? Pier Giorgio Giorilli, l'ho conosciuto 30 anni fa e appunto da lì ho cominciato le mie varie esperienze nel campo dei lievitati. Da quando è data il suo lievito madre? Cioè tradizionale la sua pasticceria o gli ha ceduto il suo maestri? Ecco appunto anche il lievito madre me l'ha passato Giorilli che era di un vecchio fornaio che conosceva lui. Il lievito madre lo mantiene nell'acqua alla francese oppure legato alla milanese? Ecco io ho fatto tutte e due le fasi e preferisco usare il metodo francese che nell'acqua. Ultima domanda, lei produce panettoni tutto l'anno o solamente nel periodo natalizio? No io sono un tradizionalista, preferisco produrre solamente nel periodo natalizio. Io la ringrazio tantissimo, le auguro un buon Natale e ci rivediamo l'anno prossimo. Alla prossima, arrivederci.